Come scrivere al programma Mi Mandare 3? Il programma in questione vi ricordo che è un programma studiato per tutelare i consumatori, per tutelare sia le fasce deboli che anche quelli meno abbienti, oltre che ovviamente tutelare il cittadino, e anche perché si occupa di parlare di situazioni di negatività, situazioni pesanti, difficili da gestire. Per scrivere a Mi Mandare 3 è molto semplice, basta infatti mandare un'email all'indirizzo di posta elettronica che è il seguente, mi manda rai3-rai.it Mi manda rai3 è scritto mi manda rai3-rai.it Mandate un'email con il titolo della vostra segnalazione, parlare magari della vostra storia, del vostro caso, il fatto che avete subito un torto, un danno, un furto, una situazione di negatività, oppure un vostro amico o chi per lui ha avuto dei problemi, e il testo del messaggio mettendo in maniera chiara e incisiva tutto quello che è successo e tutto quello che purtroppo è accaduto. Dopodiché cliccate su invia. Molto semplice, aspettate ovviamente il tempo necessario che la redazione regga il messaggio, regga il vostro messaggio e poi successivamente vedete quello che vi hanno scritto e quello che vi hanno quindi risposto. Io vi ringrazio in primis per la visione, in secondis per l'ascolto, ripeto, scrivete un'email all'indirizzo di posta elettronica che è mi manda rai3-rai.it mi manda rai3-rai, scritto mi manda rai3-e, molto semplice, non è difficile. Ciao, iscrivetevi, commentate, al prossimo video una buona giornata.